allora amici so quello che devo fare perchè l'ho letto perchè l'ho letto perchè non voglio bloccarmi quindi qui abbiamo fatto fuori tutti no è di qua no se non ho sbagliato di qua ok ok devo fare questo ok andiamo a vedere cosa è successo andiamo hello posso anche spegnare la traccia adesso oh si chiave dorata caldo ho caldo ho caldo il taekwondo ok prendo il taekwondo e il condizionatore non lo sto toccando non lo sto toccando no ci sono altri comunque ok allora ho una chiave dorata io ho da proprio con ogni porta chiusa che vedo ok 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 ma la luce ma la luce ok ok è andata ok ok pensavo che venisse da me se mi cimentero con dei problemi con dei problemi ecco ok che cosa abbiamo una piccola chiave dorata ancora ok cosa sembra sigillata addirittura addirittura un vecchio proiettore rotto ok nient'altro qui ok no la musica sta deviando la statua di un gufo ah chiave d'acciaio ricarichiamo ricarichiamo adesso anche finendo le munizioni no allora andiamo così no allora ok ok ho due chiavi la musica sembra buggata praticamente ok 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 andiamo andiamo su per vedere se qua lo sapendo ah qua posso aline aline non riesco a capire il ruolo di obede morton in questa storia ho la sensazione ho la sensazione che sia suo fratello ad avere tutte le risposte suo fratello il fratello gemello di obede ecco allora sembra che aline 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 mi stai nascondendo qualcosa credo penso che alan morton come una sorta di dottor moro manipolazione genetica di ma non sugli animali bensì sulle creature delle tenebre ah ciò potrebbe spiegare aline dobbiamo fermarlo cari tutto questo mi disorienta e io sarei un bugiardo se dicessi che ho il controllo della situazione coraggio beh allora la luce beh siamo in una nuova zona quindi che dite di un bel salvataggio ok questa porta sembra sigillato va Ehm. Ok. Grazie per questa scena meravigliosa. Un universo di sabotaggio. Continuerò, vintite. Pistola lancia raggi. Ehm, esamino. Sono per il cucinato di placanna, esamino. Io non ho niente del genere. Ok, no. Non sembra esserci nulla. Ok. Questa è sempre sigillata. Una vecchia fotografia di una giovane coppia, mano nella mano. Come se nella storia della famiglia Morton fosse possibile trovare della felicità. Ma Dio mio. Immagino di sì, Candy. Pessimismo, cazzo. Non è ingiustificato, per carità, però. Non è ingiustificato. Ehm. Ehm. Andiamo a chi la porta. Oh, cazzo. Ehm. 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 Empurso. Evbagliato. Evbagliato. Ok. Ok Ok, non c'è ancora Ok Allora, andiamoci con calma, perché tra l'altro sto pure morendo, mi toccatizzare il medikit. Che fai, non la prendi la nota? Mezza fotografia. Richard Morton, lei non mi conosce, fino a quando non mi avrà conosciuto io so che me lo sarà accospasso di insidie e pericoli. Mi chiamo Judas Deserto. Anche se non ha mai sentito parlare di me, io so tutto di lei. So delle sue notti senza sonno, delle serate passate e vannittiato da solo al freddo, così come sono al corrente delle sue paure durante il giorno e delle terribili solitudini di cui soffre faccia a faccia con l'ignoto, o con qualcosa che le parole non sono in grado di descrivere. Nel corso di una vita che è stata troppo, troppo lunga, ho incontrato le creature della notte. Posso aiutarla a sconfiggere le addominale, a rendere le sue schiave. Potrò così trovare il potere supremo, il potere dell'assoluto che non conosce confini, per l'eternità. Troverà tutto ciò estremamente piacevole. Il mio nome è Judas Deserto e lei sta già imparando a conoscermi meglio. In cambio di questo potere che già sento iniziare a scoprire nelle sue vene, io le chiedo solo un piccolo favore, una piccola richiesta che lei non mancherà di soddisfare. Quando i tempi saranno maturi, tutto ciò che io le chiedo è di spedirmi la cambiare allegata e firmata con il suo sangue. Mi chiamo Judas Deserto e ora sa chi sono. Ok. Grossa chiave lavorato. 1-4-0-8 Ho preso una scatola di caldoci di fosforo. Io ed Edenshaw Edenshaw per noi era come un padre, era quasi come un padre. Era il mio amico, nonché l'unico di nonno Jeremy. Ho sempre percepito il forte legame che li univa, come se costruisse un segreto, un insieme sopportassero il peso e la responsabilità di un terribile errore. Ricordo quando eravamo bambini che confondeva sempre me e Alan, nonno Jeremy all'interno del laboratorio del forte. Jeremy trascopreva tutto il suo tempo all'interno di questo laboratorio. Anch'io ho cominciato qui dentro la mia capiva scientifica. La camera di Edenshaw era qui di lato, come se mio nonno non potesse vivere senza averlo al suo fianco. Ebbe un po' Hugh Jackman, però. Fotografia della nostra visita al Museo Antropologico di Bosso. Mio padre organizzò la visita in occasione del mio quindicesimo compleanno. Quella visita fu determinante per la scelta della mia professione. Ricordo ancora quanto fu soppeso dalle conoscenze di Edenshaw in materia. All'interno del laboratorio di nonno Jeremy, ok. Il laboratorio di mio nonno sembrava la caverna di Elibaba, sebbene io abbia sempre avvertito che dietro questa spensierata apparenza le ricerche che stava conducendo avrebbe avuto conseguenze di ampi portate. Edenshaw è inquietantissimo. Edenshaw non ha mai detto molto circa le sue origini di nativo americano, il che gli conferiva una certa aura di mistero. Sono tuttora convinto che sapesse molto più di quanto lasciasse intendere. 13.1991 Alan ha fatto qualcosa di terribile a Howard, nostro padre. Siamo tutti sulla strada per l'inferno. Bene dai. Ah bene ma l'ho letto. Ok. L'ho letto anche questo. L'ho letto. L'ho letto. Ok. Dove serviva un codice a numeri. Ok. 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 Un busto di Richard Martin. Ok. 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 Vì. no non poteva essere mai qui ok no qui su non c'è niente ma io fai un c***o a te vai ci sono lì se facessi questo no ho sbagliato ok ho capito che custodio un dio quanti c***o sono mentre io sto volendo non finisco non fidi spugnare ok io non so più che cosa c***o fare perché non finiscono più di spugnare le ho già viste tutte ok non è che posso dire qua qua no che fai no ok ok no ok ok ora io faccio una cosa salvo ah la biblioteca carby mi trovi in biblioteca è imponente non toccare nulla probabilmente contiene dei tesori pensi veramente che io non sia in grado di distinguere la differenza fra un romanzo pulp e un incunabolo incunabolo non avrei mai supposto che un tale termine facesse parte del tuo vocabolario ah si e beh non preoccuparti sono pieno di sorprese chiudo allora prima di tutto la luce poi qui c'è la legge un botto immagino giugno 1949 io sono un morto me ne sono reso conto oggi ho cercato a lungo di sfuggire il mio destino ma la mia forza di volontà è crollata il fascino per il mondo dell'oscurità mi ha sconfitto ma ho scelto di non concedere la mia collaborazione una scelta che mio padre non ha mai fatto a causa di quel demone di deserto ora capisco che solo la luce è in grado di sconfiggere l'oscurità i proietti del mannesio costruiti in Italia hanno un grande effetto sulle creature più piccole ma nulla possono conto i mostri più forti che dimorano nelle viscere della terra il lavoro dello scienziato francese de Broglie ha non so come si pronuncia ampiamente ispirato le mie ricerche le proprietà della luce che ha scoperto e la sua natura ondulatoria sono considerevoli perciò è possibile concentrarle e amplificarle rompere il loro momento in fase e quindi trasformarle in un'incredibile energia distruttiva le informazioni in mio possesso circa la struttura molecolare delle rombe della notte sono frammentarie ma il mio studio è giunto alla conclusione che dispongono di una limitata capacità di assorbimento dell'energia luminosa l'energia fotoelettrica ha determinati livelli in grado di destabilizzare la loro struttura chimica le molecole si rompono e l'intero macrosistema implode se potessi costruire un'arma in grado di concentrare l'energia luminosa per un fattore 100 o addirittura 1000 se disponessi a tecnologia se non ci fossero limiti Dio se solo qualcuno potesse aiutarmi quando ed escevo sconfisso il deserto con l'essere monvagio che ha portato la nostra famiglia su una strada del disonore sapevo che il mio amico indiano mi era stato inviato dagli dai da bambino l'ho visto portare a termine l'incantesimo presso il cerchio di pietre rivolto nella direzione della congiunzione deserto che ne conosceva i poteri ha utilizzato la magia per nascondere alcune statuagli occhi dell'uomo 13 gennaio 1953 questa data resterà sempre impressa nella mia mente oggi sono nati i miei nipoti solo Dio sa cosa ne faranno nella loro vita Howard vuole andarsene la Shadow Highland comprendo le sue ragioni ma pura che il destino si dimostra più forte del desiderio di un povero padre le mie ricerche stanno facendo molti progressi il tempo è fondamentale è come se si combinassero conoscendo la data che l'estina loro riservato le questioni all'interno del nostro mondo di luce si stanno facendo sempre più frequenti ogni nuovo giorno il mio studio delle creature della notte mi inserirà delle sorprese sembra quasi che possiedono tutte lo stesso patrimonio genetico l'espressione tuttavia non è corretta le entità sono molto più simili a un minerale che alla vita organica ma non ne ho trovata una migliore è come se fossero state tutte cronate a partire dalla stessa sostanza 5 dicembre 1969 finalmente sono riuscito a potenziare l'intensità della risonanza del cristallo ora un solo problema sta con il mio cammino ho provato la prima versione del pulsare fotoelettico ed è letteralmente finito i mille pezzettini nelle mie mani beh chi ben comincia ho paura di dover ho paura di dovermi attendere lunghi mesi di modifiche ho paura di dovermi attendere aspettare? ho paura di dovermi attendere lunghi mesi di modifiche e regolazioni Alan continua a mostrare un considerevole intuito la sua mente sembra perfettamente sincronizzata con le creature della notte addirittura sostiene che obbediscano i suoi comandi comunque sono felice della piega che le sue ricerche stanno per dentro scusate 31 maggio 1973 le forze mi stanno abbandonando il mio corpo è percorso da dolori acuti ho ancora così tante cose da fare ora so solo che Alan appartiene completamente a un altro mondo per la prima volta mi ha parlato del suo vero progetto vuole fondere la luce e l'oscurità in modo da ripristinare la loro unità originale e unificarlo sconfiggendo la loro separazione penso che abbia a lungo atteso il momento in cui mi sarei indebolito e non avrei più potuto oppormi a lui Dio solo sa cosa è in grado di fare per la prima volta nella mia vita l'altra sera ho pregato Richard Morton di ritorno da un'esplorazione di fronte a una delle sue barche la sera della famosa dinastia di Boston è costellata di eventi inesplicabili, sorprese e problemi qualcuno potrebbe asserire che il mio unico scopo nel fare queste affermazioni sia quello di danneggiare la reputazione di uno dei più leggendari patrimoni del Massachusetts in mia difesa vorrei dire che sto semplicemente facendo il mio lavoro di storico il mio racconto è basato su fonti attendibili e interviste effettuate a testimoni che nonostante cercassero di illudere le mie domande non sono privi di interesse se faccio l'arco a certi dicerì è unicamente perché le ritengo parte costitutiva della storia della famiglia Morton il contratto per lo sfruttamento delle risorse naturali di Pueblo Venezuela firmato da un rappresentante del governo venezuelano e da Richard Morton 50 pagine, ottimo preparate, preparate la mia gola soprattutto la odice americana della famiglia Morton risorgono al tempo dei grandi mutamenti demografici avutisi nei decenni seguenti nei decenni seguenti la fondazione degli Stati Uniti d'America nonostante sia impossibile per costruire la storia della famiglia precedentemente all'inizio del diciannovesimo secolo sembra che questa tragga le sue origini dalla piccola città di White Chapel nel Sussex inglese Robert Morton fu colui che per primo si trasferì nel continente americano dove nel 1823 costruì la prima fabbrica di carta sulle alture di Beacon Hill il successo della Morton Papers fu impressionante nonostante ciò era Richard Morton, suo fratello maggiore che si deve alla fondazione del vero impero dei Morton grazie alla creazione della Morton Holy Company avvenuta il 23 marzo 1839 quando lui aveva 37 anni l'uomo nei ghiacci la storia segreta della famiglia Morton aveva inizio con l'invenimento di un uomo intrappolato nei ghiacci durante una delle spedizioni di ricerca della società di Greenland data tra il 1891 e il 1893 Richard Morton, influente figura pubblica, divenne sempre più riservato finendo quello smettere di frequentare i circoli della società di Boston per avventurarsi in audaci spedizioni che lo riportano di tanto in tanto sul luogo della sua prima macabra scoperta Deceptor sullo sfondo in qualità di assistente di queste missioni le quali talvolta finivano in disastri umani e finanziari vennero chiamati diversi mercenari e marine svedesi e norvegesi tra i quali una persona chiamata Deceptor Deceptor era un uomo intrepido, un guerriero e un chiaro vergente interessato alla magia nera era un personaggio molto sospetto e sembrava avere grande influenza su Richard Morton l'esatta causa di questo terribile incidente è ancora sconosciuta contro ogni aspettativa gli affari di famiglia continuavano a prosperare la morto nel company si impadronì uno dopo l'altro di diversi mercati Venezuela, Indonesia, il nord e il nord i suoi concorrenti nel frattempo furono colpiti da una serie sorprendente di sciavure i loro negoziatori principali subivano gli incidenti i loro direttori sviluppavano seri problemi mentali i loro avvocati callavano improvvisamente accentuando accordi seriamente svantaggiosi nessuna attività di investigazione pubblico o privata comunque riuscì a portare all'incriminazione del gruppo di Morton si sapeva che il patrimonio di Morton era vasto ma nessuno era in grado di quantificarlo Gibson Samuel Gibson prese servizio presso Richard Morton il 20 giugno 1899 questo brillante studente era estremamente abile nelle cifravi linguaggi antichi riscoprì che Morton l'aveva incaricato di eseguire la traduzione delle iscrizioni di una tavola trovata vicino al famoso Uomo dei Ghiacci fu Gibson ed irizzare Richard Morton verso Shadow Island vista dal mare di Shadow Island il forte che domina le fredde paludi dell'isola era stato abbandonato per una ventina di anni i soldati che vivevano prestato servizio erano stati colpiti da allucinazioni ed attacchi improvvisi di totale pazzia altri sparirono senza lasciare alcuna traccia dovrei raccontare anche di una strana leggenda che non avrebbe di come la cappella situata nei paesi del forte fosse stata durante il XVII secolo teatro di strani rituali nel corso dei quali sarebbero anche avvenuti dei sacrifici umani immagino passare il Natale qui non fu difficile convincere lo stato del Massachusetts a vendere l'isola Richard Morton per una somma simbolica inizialmente sembrava che Richard Morton volesse insediarsi all'interno del forte spese una fortuna e compì uno sforzo sovrumano per riuscire nel suo intento ma in seguito dovette abbandonare l'idea decise quindi di costruire una strana villa nell'atto meridionale dell'isola la sua decisione di acquistare Shadow Highland e di vivere c'era dovuta alla somiglianza fra le iscrizioni sulla tavoletta e quelle trovate nei passaggi sotterranei dell'isola Lettera di Gibson alla sua fidanzata datata a 14-18-1902 man mano che l'avvio di traduzione delle iscrizioni precedeva le relazioni tra Morton e Gibson si deterioravano lo studenta saprava il romanticismo del suo lavoro mentre Morton sembrava divorato da una passione distruttiva inoltre Gibson sembrava terrorizzato dalle proprie scoperte tanto da confidare le sue preoccupazioni e la sua paura in una lunga lettera alla sua giovane fidanzata rimasta sulla terraferma questo è stato l'ultimo suo messaggio in seguito la madre ricevette questa breve comunicazione suo figlio è scomparso il suo corpo non è stato trovato le mie condolianze è firmato Richard Morton avviso di ricerca il picco dell'allarmante e misteriosa attività di Richard Morton coincise con la scoperta di alcuni giovani ragazzi e i soborghi poveri di Boston questo è stato certamente l'episodio più inquietante di tutta la sua vita sono pressoché certo che guidato dagli ebolico consigli di deserto il fondatore della dinastia dei Morton fosse solito praticare la magia nera compresi i sacrifici di anima innocenti senza dubbi all'interno della cappella dove si erano già verificati tre secoli prima tuttavia non conosco l'estensione di tali pratica la prima scomparsa ebbe loro a cavallo tra l'ottobre e il novembre del 1903 le altre si susseguivano al preoccupante ritmo di una al mese con incrementi durante i periodi di equinozio fino alla morte di Richard Morton avvenuta il 13 aprile 1905 da quel giorno le scomparse si arrestarono misteriosamente Archibald Morton da bambino ok ci fermiamo qui ok